Prosegue il piano di interventi da parte del Fondo Comuni Confinanti a favore dell'ospedale di Lamon. Il Comitato di Gestione del Fondo ha firmato la convenzione con l'USDolomiti, che destina all'ospedale dell'Alto Piano un nuovo contributo pari a 1.450.000 euro. Già lo scorso anno erano stati inaugurati i lavori del primo stralcio, al quale il Fondo Comuni Confinanti aveva concorso in maniera sostanziosa per circa 4 milioni di euro. Nel dettaglio, il nuovo contributo andrà a cofinanziare il progetto strategico per il completamento del centro di riabilitazione, che ha un costo complessivo stimato di 1.950.000 euro. I lavori riguarderanno in particolare la sostituzione dei serramenti esterni, con conseguente efficientamento energetico della struttura, la riqualificazione della viabilità delle aree di parcheggio dell'ospedale e l'adeguamento del percorso e le aree di sosta del sovrastante parco del Colle di San Pietro. Per il Presidente Bond, la riqualificazione e il potenziamento del centro riabilitativo rappresentano un progetto emblematico, sia per l'importanza del servizio reso dall'ospedale nei confronti di una tipologia di pazienti in aumento e che richiedono prestazioni altamente qualificate e professionali, sia perché si tratta di un intervento che incarna esattamente il significato e il ruolo dei fondi di confine. Non va dimenticata, conclude Bond, la valenza anche economica e in termini occupazionali che il centro ricopre per l'altopiano, ma più in generale per tutto il feltrino.